Ciao a tutti e a tutti, io sono Gianni Speranza e vi vorrei parlare del libro che ho scritto, una storia fuori dal comune, edizione di Rubettino, con la prefazione di Antonio Padellaro, l'intervista di Gianfranco Mandri, che è conservatore mia. Il mio libro parla di una città dell'Italia di oggi, con le sue sofferenze e con le sue irracità, con le sue conquiste e con le sue delusioni. Una città, la Mediadema, nella quale io sono stato sindaco per dieci anni, dal 2005 al 2015. Tutto inizia con un ingeglio. Mi è andato alle fiamme, in pieno giorno, il portone dell'Ola Consigliare del Municipio. Devo scappare. Sono stato letto da appena 24 ore. Mi devo ingegliare prima del previsto. C'è emergenza piena. Ma la comunità, la comunità dei giovani, riesce a essere più forte della mafia e della grandita. Reagiamo. Andiamo avanti. Certo, ci sono micidi, incendi, attentati, ma resistiamo. Andiamo avanti, oltre tutte le previsioni. Anche se non abbiamo la maggioranza dei consiglieri comunali in consiglio comunale. La svolta avviene quando, nell'aula del Tribunale, un imprenditore, Rocco Mangiardi, indica il capo mafia della Cosca Giampano come quello che gli ha chiesto il prezzo. Allora anche i grandi giornali nazionali, come Le Monde, il New York Times, si occupano della Venezia. La mia città viene vista come un'esperienza positiva, anomala, in tutto quello che succede in Calabria e in Italia. E allora anche tante energie dei cittadini, che sono latenti, vengono alla luce. Anche le esperienze sul piano amministrativo cominciano ad essere più forti. Ecco, per la prima volta, dal vivo, le gioie e le esagerie, le illusioni e le conquiste di una comunità, di una comunità dell'Italia di oggi, appunto, non qualcosa di locale, ma il nostro paese, una storia fuori dal comune. Ringrazio, avviso pubblico e conteggiamoci di cultura. L'Histag conteggiamoci di cultura.